La lista degli esercizi è la seguente, le fenici spiccano il volo, quindi andare sulle punte aprendo le braccia, avvolgono lo sguardo a sinistra e a destra, poi abbiamo sostenere il cielo con una mano, passo all'indietro e via discorrendo, poi abbiamo il gallo scuote le ali, dopodiché andiamo ad eseguire il torrente tempetuoso, rimuove gli ostacoli, il fanciullo lava, il giovane stolto lava i panni al fiume, così lavoriamo un po' duro, suonare il pipà e poi non me le ricordo, me le ricorderò tanto mentre li facciamo, mi raccomando, in questo caso ricordiamoci, essendo l'esercizio mirato alla respirazione, come vi ho mandato le indicazioni, comunque si ispira lento e profondo e si espira con un po' più di vigore. Buona lezione a tutti, andiamo, oggi ho cambiato zona, se mi vedo ho messo proprio lo scorso in mezzo. Ok, buona giornata, partiamo sempre da gola e nuca, mani sui fianchi, piedi aperti, larghezza delle spalle, dritti e distesi, giro la testa, espiro, inspiro, espiro, espiro, e espirare, allungare la gola, allungare, 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 espirare, girare la sinistra e espirare, mi raccomando forzare un po' lentamente, ogni volta un po' di più, le torsioni, le flessioni, accentuiamole ogni volta. Ancora una ripetizione, inspiro e giro, un po' di più. Inspiro e inspiro. Inspiro e inspiro. Inspiro e inspiro. ruotare la testa lentamente e con calma nell'altra direzione sempre con calma, le mani ben appoggiate sui bianchi respiro scendendo in basso sollevare le mani non sguardo e seguo il movimento la mano sinistra sotto, inspiro fermi, fermi con la schiena aggiungo un bel bel incontro espirando il palmo rivolto in basso inspiro mano destra sotto espiro mano sinistra inspiro mano destra inspiro seguite, lo guardo si allunga bene spiro lascia cadere palle, gomiti e per ultimo inspiro e allungo le mani e spiro distende, distende, distende inspiro instiro insiro distende, distende spiro e spiro Ispiro, vesto, la soluzione, ma le si pianchi, il vento muove, perché ho abbastanza il piloto, si ruota, ora ando bene sulle anche, direzione, sento lentamente, guardiamo, i piedi rimangano a fermi, gli albi pressati a terra, muovete i cavigli, muovete le anzi, muovete anche le ginocchia, ma non muovete i piedi, e andiamo, la gru immortale si massaggia le ginocchia, mani, scusate devo abbassare un po' sto maledetto perché non si vede nulla, aciderbola, a vedere, dobbiamo fare degli investimenti economici, importanti, perché qua un si vede, e un si vede, c'è poi, vediamo se così si vede, così si vede, più o meno, non mi siede più la testa, ma faccio, arrangiare, quindi, abbiamo detto, piego il canto, espiro e distendo, premo ruotando bene le mani sulle cosci, spiro, inspiro, inspiro, espiro, inspiro, inspiro, allungo la schiena, distendo bene il corpo, spiro, inspiro, 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 e portare le ginocchia sempre con calma giro concentrati sulla flessione delle aviglie quindi le aviglie si flettano la schiena rimane dritta le ginocchia ruotano stendo e piego e ritorno due giri con quattro attenzi anche questo tre quattro separare uno due tre quattro uno due unire le ginocchia uno due tre quattro premere e difendere la schiena appoggiandosi appoggiandosi l'aria rilassata e l'impulso appoggiandosi sulle braccia e l'impulso 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 Poi rilassiamo testa e spalle, rilassiamo il corpo in pieghi, inspirando come tutto, prima la testa, poi le spalle, le braccia, il nostro dragon si avvolge. Apro, inspirando, espiro, piego, inspiro, guardo e difendo, espiro, basso, in, espirare. Inspiro, spiro, 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 spiro. Spiro, 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 spiro. Inspiro. Espiro. Non poter resistire, si lascia scendere. Inspiro. Espiro. Inspiro. Inspirando, scendo. La panciulla fletta il corpo. Piego lateralmente. Apro e torno. E fletta. Sollevate bene il gomito. Ritorniamo. Piego la gamba. Distendo il braccio e distendo il calcio. Un. 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 Treta. Un. 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 Inspiro, torsione, torsione delle braccia, continua, pressione del busto, inspiro, spiro. e siamo parlando, riscaldamento fatto, scusatemi ancora, sistemo che era messo troppo i piedi e poi il cervello, ecco, forse così, va bene, tanto il basso lo conoscete, andiamo a fare l'esercizio per il polmone e andiamo sempre a iniziare la nostra formula per la concentrazione idee, la rendicza, di acquare il rischio salgo con calma lasciamo scendere le braccia, piedi uniti e andiamo a eseguire il primo movimento, le penici piccola colori, guardiamo, ruotiamo e guardiamo, ritorniamo, andando sempre sulle punte, quindi l'azione è torsione, il punto è questo alla spalla e il meridiano è quello del braccio, qui, dritti e distesi, ispirando, vado leggermente sulle punte, guardo a sinistra e attorno e estiro, espiro, estro, eschio, inspiro, eschio, concentrato sulla torsione, si spinge leggermente le e che nella fase di ispirazione, giro la testa e apro bene il testo, espiro, e spiro, e spiro, spiro, lente profondo, e spiro, 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 guarda la destra, giro la destra, spiro, e spiro, andiamo a eseguire, sostenere il cielo con una mano, guardiamoci in questa fase, il passo è all'indietro, quindi giriamo leggermente a sinistra, scusate, con il cane, con tutta la roba è già nel mezzo, quindi giro a sinistra, piccolo passo, scambio le mani, tenere il panciullo in braccio, spiro, e spiro, ruotare leggermente il busto, il palmo rivolto verso l'altro e l'altro dietro, spiro al fianco in basso, scendo in avanti, con le braccia a 45 gradi, avanzo, spiro, e 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 spiro, in, passo, porto il peso, le mani, arrivate le mani, come tenere un bambino in braccio, a questo punto, espirando, mi dispendo, ruoto leggermente il busto, e spiro e corri, le mani a 45 gradi, Espirando torno in piedi, ruoto, piego, passo. Quando cambio il peso muovo le mani, la punta del piede è sinistro, destra è alzata, respirando, mi distendo, ispirando, stendo, mi appoggio il siede, mi avanzo, inspiro, espiro, inspiro, espirando, si stendo, infirando torno, mi appoggio il passo e avanzo, espiro, andiamo a eseguire, il gallo scuote le ali, quindi rivediamoci, nella prima parte abbiamo il punto, il polmone, la vostra presa, fantastica, il passo è laterale, ok, quindi abbiamo, prendere i punti, allargare e ispirando a sollevare i polsi, ispirando, rilasso, piego, spingo, premo, guardo a sinistra e sollevo. Rilasso, tornando col peso, spiegiamo e distendo. Quindi abbiamo, inspiro, mi concentro sui polsi e sul punto, allargando il passo, mi distendo, ispirando, lascio, scendo, spingendo, avanti, dritti, 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 le mani, le mani, le dita si guardano, apro il petto, distendo, vuoto le ali, tornando, richiamo, spingendo, inspiro, e ispirando, le mani si avvicinano al petto, scendendo il più possibile la schiena dritta, spingo, le mani scendono, le dita si guardano, all'arco le spalle, guardo, a sinistra, spingendo, torno con il peso, all'arco, richiamo, distendo, inspiro, e ispirando, e sempre rilasciare, mentre scendo le dita delle mani si guardano, apro il petto, bambino, sollevo, sollevo, allargando, spingendo, actuar concentrated, ancora una seconda inspiro apro e mi spiro espiro lascio davanti al vento 5 inspiro espirando spiego ritorno e mi spiro 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 qui abbiamo adesso il corrente impetuoso rimuove gli ostacoli guardiamoci apro intendendo inarco bene la schiena sollevo il petto lo sterno verso l'alto sul collo e la nuca si mettano in tensione non troppo non c'è rigidità c'è forza non rigidità ruotando le braccia poi scenderemo verso il basso le mani unite davanti al petto premere e poi rilassare sempre lavorando sul respiro quindi dritte e distesi iniziamo inspirando mi allungo verso l'alto e poi giù scendo la schiena dritta toppo le gambe pulisso premo piegando le gambe spingo forte lascio riguarda la prima serie la seconda serie invece ora guarda a destra inizio gomiti in basso espiro inspiro espiro inspiro e di nuovo in e lasciarsi andare rilassare la schiena lasciar cadere il corpo inspirando mani giunte davanti al petto guarda a sinistra e spingo rilassa i polsi e stai muzikio e spiro 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 Ispira Ultima serie Apri bene le spalle Distende bene la schiena Ispirando Scendo Ispirando Salve Ispirando Lascio e vengo Premendo le mani in basso Mi alzo un po' Ultima Ispira 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 Il panciullo lavai panni al piume Piume l'abbiamo Panciullo un po' meno Anche vedi dobbiamo Stessa parte I punti inizianche Mi raccomando La parte dei punti Dopodiché Dobbiamo Legarci E fare I triangoli 30 gradi 60 gradi Si rialza Vediamo Se proviamo Una superficie Tritta Si scende Quanto ti può Come sempre A schiena Quindi abbiamo Prendo il punto Allargo Guardo Guardo E faccio Un piccolo passo Ricordiamo Un piccolo passo Spostando Unione Il peso Incrocio La gamba Dietro Le mani Si avvicinano Al corpo E insieme Al corpo Scendiamo Prima volta Uno Mi alza E gira A 30 gradi Due Le mani Insieme Al pezzo Il corpo Scende Poi Facciamo Leggermente Premi In avanti Solleva I polsi Gira A 60 gradi E finiamo Ancora Abbitando Massima Corrizione Apro Tattamente Sempre Ho le mani In ruotata Mi spezzo Mi alzo Mi alzo Mi alzo Torcio Le torce Le torce Le passi Mi sposto Al centro E mi stengo Dall'altra parte Punto Iniziamo Rotazione Lo sguardo Apro Il passo Non trovo Ruoto In corpo A questo punto Stato Le mani Si avvicinano E adesso Il peso Scende Le mani Scendono Uno E arrivo Abba In avanti E sollevato 30 E andiamo In basso In avanti E sollevare i polsi 60 60 E andiamo In basso Apro E andiamo C'è qui Apro Perti spalle Allargo bene Spingo Verso 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 L'esterno Torzione Vado Al centro Unito Stacca e Distante E si ripete Prendo i puli Apro Il petto Vi dico Lo sguardo Verso Sinistra Imposto Avvicino Prima Avanti Seconda Torzione 60 Apro Allargando Gomi di spalle Continuo 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 E arriviamo Il passo Uno Tacco Unissimo Ristendo Ispirando Inspiro Guardo A destra Espiro Spendiamo Inspiro 30 gradi 60 E a questo punto Prontamente Mi rialzo Allargo E torcere Aprire Spostarsi Riunire E distendere Suonare Il pipà Sciocchi Il pipà Di questo ne facciamo solo due Perché sono Impegnativi Suonare il pipà Ricordiamoci È composto da Torsione Poi abbiamo La mano davanti al petto E l'altra Altezza del bianco Scivola E struscia Quindi massaggio E Ispirando Chiuderemo I polsi Leggermente Cadano Ruotare E tornare Il passo In realtà si muove Solo e soltanto Il passo Non si sposta mai il peso Si tira la punta Quando facciamo Pipà Poi si richiama Quindi non spostiamo il peso Dalla gamba di sottene Prima sempre verso sinistra Una massima Torsione E allargando Poi le braccia Uno A questo punto Tornando A 45 gradi La mano Sinistra Al petto La destra Attaccata al piano Piegando Nuovo Quando appoggio il tallone Ma non cambio il peso Espiro Righiamo Inspiro Sempre Rotazione Delle braccia Espiro Distendendo il palco Massima Torsione A destra Tornando Appoggio il bianco E la mano davanti Chiudo Inspiro 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 Espirate Piegate bene la gamba Di sostegno Inspiro Tornando Per il terno Per il bianco Un asterno E la gamba La gamba Lossa Inspiro Pianco Pianco E spiro Spiro E spiro Inspiro sempre torsione, sempre rotazione e torsione, rilasso il petto e le mani scelte, ultimo vero, ispirando, a questo punto, ispirando, piego le ginocchia e piego i domici, il peso si è liberato, quindi la gamba a sinistra è libera, muovo solo la gamba, poggio il tallone ma non ci metto il peso, ispirando, ispirando, ispiro, piego e ruoto, lato destro, ispirando, ispiro e andiamo a fare il pescatore canta la sera e finiamo con la gru al bordo del lago, scrupa l'orizzonte, io per caso potrei fare la gru al bordo del fiume, però, quindi andiamo a recuperare i due esercizi successivi, abbiamo il pescatore, ricordiamoci, punto la OV, si espira e si lascia, passo leggermente all'indietro, l'azione è rilassata, quindi prendo il pugno, quindi ricordiamoci, in realtà, ricordiamoci che lavoriamo sui polsi anche, no? quindi l'azione è polso, si vede qua, e spingo in basso, premo, quando sono a terza del fianco, sollevo il polso, davanti al petto, ispiro, quando sono arrivato laggiù, sempre il polso, lascio, uno, tiro sul polso, e ispiro il polso, alla fine aprirò la mano e ricamerò il piede, passi in avanti, quindi lavoriamo su questi polsi, forzateli un po', finito, piccolo fatto sinistra dietro, metto un passo avanti, se no non mi vedo, pugni si dietro, passo sinistra, indietreggiando sollevo il petto, e il barcaiolo canta la sera, uno, uno, due, tre, apro, richiamo il piede sinistro, unisco le gambe, distendo il corpo, passo, e avanzare ispirando, i polsi, non i gomiti, i polsi premerli, qua, ispirando arrivo davanti per il pietro, esterando, ispirando, 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 apro, e discapando, ripeto, sinistro, Inspira. Respira. Inspira. Respira. Unisci. Inspira. Passo dietro a destra. Piccolo passo, arriviamo. Inspirando, espando l'addome. Inspirando, comprimo. Inspiro. Massaggiando i visci. Unisci. 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 Ultimo ciclo. Inspirando. Unisci. 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 la bocca della mano sui fianchi, premere con i gomiti dietro e in basso, schiacciare con i gomiti, sollevarsi leggermente sulle punte, ruotare la testa e distendere la gola. Si inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ogni volta premo bene le punte a terra e sollevo i talloni, spingendo la testa, inspiro, inspiro, rilassando, le braccia, la schiena rimane dritta, spingendo, spingendo, lento, spingendo il e sceglie in e scendiamo con calma la mano destra signore la mano sinistra adesso dobbiamo creare la prima strofa della formula della concentrazione nel silenzio della notte profonda tutti i pensieri svaniscono all'interno della nostra mente concentriamo il respiro pensa pensieri rilassati il respiro rilassato rilassato mantiene solo la testa distesa le gambe ti spingono verso l'alto i piedi premano verso il basso la testa distrazione vittorio l'alto l'alto il tiene il Grazie. Ok, finiamo con il nostro yang shengu, ricordiamoci, conservare l'energia nel basso vento, quindi teniamo le mani davanti all'addome, assorbire energia dall'esterno, muovere, espandere, guidare, condurre, svuotare la mente dai pensieri. Conchiare le gote, deglutire la saliva e così per altri cent'anni siamo a posto. Dritte e bistesi, facciamo appunto il nutrimento vitale, yang shengu, yi tao, paoshi, conservare l'energia, allargo il passo ma non provo, ruoto le braccia, piegando leggermente le ginocchia, mi siedo, mi raccomando la schiena, Antonelli, trippi, seduti, testa distrutta. Tre, quattro respiri profondi, eh? La tensione è nell'addome? Quattro respiri profondi, sentiamo il corpo, ruoto le braccia, piegando leggermente le ginocchia, piegando leggermente le ginocchia, piegando leggermente le ginocchia, piegando leggermente le ginocchia. Braccia si avvicinano e le solleviamo, ruoto, apro, ritorno alla posizione arretta, un busto collegato, le braccia aperte. Assondire l'energia dall'esterno. Assondire l'energia dall'esterno. Assondire l'energia dall'esterno. Assondire l'energia dal nostro corpo, ruoto le braccia, piegando leggermente le ginocchia, piegando leggermente le ginocchia, piegando leggermente le ginocchia. Lentamente distendo le gambe e le braccia davanti e andiamo a fare espandere, muovere. Confrontiamo due punti, la lunga, quindi il palmo delle mani e iniziamo, inspira, allontana. Grazie. Guidare e condurre. Le mani scendano, ruotiamo le braccia, facciamo scendere l'energia verso i piedi, il pensiero, e le mani scendano, ruotiamo le braccia, facciamo scendere, il pensiero, ruotiamo le braccia, tutta la seconda, ruotiamo le braccia, Grazie a tutti. 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 Vado dal pollice verso la spalla e dalla spalla verso il pollice. Su, su, su. Massaggiando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'interno. 36 colpi, 36 colpi. Scuotere e battiamo il petto. Quindi è andata qui all'inserimento della spalla. Ecco, così. Fate battere le natiche. Le gambe. 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 conosco. Le gambe. Le gambe. Le gambe. Le gambe. Le gambe. Le gambe. He. sciolti e distesi mi raccomando passate una bella giornata rilassatevi se potete durante la settimana rifate l'esercizio e ci vediamo presto ok grazie ciao a tutti grazie a voi ciao Lorena ciao Paola ciao a tutti ciao Masha buona giornata mangiate leggero insomma ciao Giuseppe ciao ciao a tutti ciao Madren ciao Lorena ciao a tutti ciao 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 ciao